Sono passate tre settimane dalla manifestazione dei tavolini, cosa è cambiato ad oggi? Il protocollo di intesa l'ho rieraborato io e l'ho trasmesso alla sovrintendenza. Dopo dieci giorni, a seguito di un'annunciata nuova protesta, la sovrintendenza l'ha recepito parzialmente e ce l'ha rimandato con delle osservazioni. A questo punto ho già formulato delle controosservazioni che riguardano principalmente le canzette tematiche, perché è assurdo privare queste attività commerciali degli ombrelloni. Martedì prossimo faremo una commissione insieme ai rappresentanti di categoria e degli ordini professionali, in modo tale da uscire da questo torpore amministrativo che dura da anni. Quali sono i dettagli, i cambiamenti che sono stati recepiti e quali ancora sono le questioni da trattare e da affrontare? Ma sostanzialmente la vicenda riguarda soltanto l'occupazione suolo nel centro storico a carattere permanente. Le difficoltà sono dal fatto che, secondo un dato che mi dà la sovrintendenza, il 98% delle istanze venivano respinte. Ora il problema è alla base, o tutti i tecnici sbagliano le pratiche o c'è qualcosa che non va nel procedimento amministrativo. Probabilmente era la seconda, tant'è vero che abbiamo già letto da Orriani di stampa che a Piazza San Martino è in corso l'autorizzazione del Deor, che era stato bocciato in precedenza già da un anno. Per cui se già gli uffici si rendono conto che forse avevano fatto una valutazione errata, allora stiamo introducendo un nuovo concetto di occupazione suolo pubblico nella città di Messina.